Il 29esimo campionato di tiro all'arco delle contrade meridionali, riservato alle emule britanniche di Guglielmo Tell. Ecco uno sport meno semplice di quanto si potrebbe supporre e che oltre una buona mira richiede anche una discreta forza di braccia e di polso. Infatti sostenere il lungo arco a braccio teso durante i 15 o 20 secondi che precedono lo scoccare della freccia equivale a sollevare un peso di circa 15 libre.